Oggi torniamo a fare la revisione di alcuni dei vostri scatti e i tre che vedremo oggi sono di Samuel, Giuseppe e Roberto. Se anche tu vuoi mandarmi i tuoi scatti da revisionare qui sul canale per tutta la community, così ognuno può imparare qualcosa dagli errori o le cose fatte bene di altre persone, contattami qua nei commenti, scrivimi su Instagram a nicolas.teninelli o cerca la mia email personale qua nell'informazione del canale, così mi potrai mandare i tuoi scatti e io le inserirò in uno di questi video di revisione. Delle foto che mi sono state mandate alcune erano veramente ottime, altre andavano totalmente riviste e ho selezionato diciamo quelle che erano un po' a mezzo livello, cioè che si possono migliorare ma non sono ancora il top dei top. Senza perderci in chiacchiere saltiamo subito a monitor e incominciamo a vedere cosa si è fatto bene e cosa invece si potevano fare meglio di questi tre scatti. Ok questi sono i tre scatti che vedremo oggi e iniziamo da quello di Samuel. Questo di Samuel è un buono scatto, ha utilizzato la tecnica della lunga esposizione in una bellissima cascata. Il soggetto è centrato e comunque ci sta, è anche in una bella posizione all'interno delle rocce, è molto interessante. Quello che secondo me si poteva fare meglio in questo scatto era diciamo quello che è un po' la composizione e l'eliminazione degli elementi un po' di disturbo inutili. Come prima cosa questa pianta qui sul lato non dà nessun tipo di valore aggiunto, è pressoché un elemento di disturbo poiché il ramo è fuori fuoco, la pianta in sé è difficilmente facile da mettere a fuoco un elemento così vicino se vogliamo anche il nostro soggetto a fuoco e in più sono tutti componenti mezzi tagliati, non c'è una vera e propria pianta, è da poco valore aggiunto alla foto. E un'altra cosa secondo me c'è un po' troppo primo piano, va bene dare il senso di profondità mettendo l'acqua davanti ma secondo me tutta questa parte qua è un po' inutile, si poteva tagliare e magari quando eravamo nella location, Samuel, potevi spostarti leggermente più a sinistra ed eliminare totalmente questa pianta qui. Credo che tu appunto abbia voluto mettere un elemento così vicino proprio per dare profondità e per dare l'effetto della cornice ma è troppo poco, cioè o ne metti di più o non lo metti, così è proprio quella via di mezzo che è di disturbo. Credo che la giornata fosse leggermente nuvolosa e l'hai scattato più o meno o la mattina o il primo pomeriggio guardando un po' le luci però credo che comunque sia stato un giorno coperto perché hai la luce molto diffusa, non ci sono ombre nette quindi diciamo che come fotografia e come illuminazione poteva andare bene non è nulla di magico come magari potrebbe essere all'alba o al tramonto con ombre un po' più morbide, cioè più che ombre morbide con un po' più di colore rossiccio però appunto a mio parere se facevi una composizione così ottenevi molto più impatto visivo, immergevi maggiormente l'osservatore nella scena e avresti potuto ottenere un'immagine appunto un po' più di impatto ti faccio vedere il ritaglio che avrei fatto io partendo da questo scatto perché in composizione magari nella location potevamo fare qualcosa di meglio ma se noi facciamo un crop così senza esasperarlo troppo lo so che non sono in mezzo è solo per togliere questa parte qui vedi che eravamo un po' più immersi nella cascata poi magari in questa situazione andavi in post produzione ad aumentare l'esposizione di questa zona tirandola leggermente un po' più chiara e vabbè ovviamente qua c'è ancora l'elemento di disturbo ma perché ho fatto un crop durante la composizione magari bastava spostarsi leggermente a sinistra e comunque avevi il tuo soggetto molto bello che è questa cascata con i tempi di scatto che secondo me sono perfetti quindi i tempi di scatto li hai fatti benissimo sono proprio belli la cascata in sé è molto bella hai questa cornice data dalle rocce che ti scontorna diciamo che ti enfatizza maggiormente il soggetto è fatta bene giocando un po' meglio durante la composizione e giocando un po' meglio in post produzione magari andando a scurire un po' questa zona facendo un po' di vignettatura qui e qui così e andando magari a giocare un po' meglio coi colori saturando un po' facendo magari anche qualche finto raggio di luce qualche dodge and burn sulle rocce per aumentare magari solo alcuni spot e scurirne altri potevi veramente tirare fuori un ottimo un ottimo scatto ripeto comunque samuel è un buono scatto qualche piccola miglioria e avresti ottenuto uno scatto veramente di altissimo livello bravo mi piace comunque come hai lavorato per il secondo scatto di oggi vediamo quello di giuseppe abbiamo anche qui una bellissima lunga esposizione che appunto l'effetto seta sull'acqua è proprio l'argomento dell'ultimo video che ho pubblicato e dal punto di vista compositivo e di tecnica apprezzo molto perché sei stato basso sul terreno hai fatto bene hai un buon primo piano perché quella parte qua è molto interessante hai molti dettagli hai questo verde questo rosso questo giallo e veramente porta valore aggiunto all'immagine quindi hai fatto un'ottima scelta magari ma solo magari avrei magari tolto un po' di questa parte qua in alto per dare più valore alla parte qui in basso che poteva essere interessante una piccolissima correzione che però poteva darti un qualcosa in più considerando appunto che il primo piano in questo caso rispetto ad altri era molto molto interessante poi sullo scatto in sé non ho altro da dirti perché è un buono scatto con una buona composizione un ottimo soggetto un bellissimo primo piano hai molto il senso della profondità dei vari livelli dati appunto da quest'acqua che si muove hai fatto bene l'effetto seta sull'acqua avevi appunto dei bei colori dati dalle foglie rosse che sono molto molto belle l'unica cosa è questa parte qui questa parte qua mi fa capire che non è stato scattato in un orario della giornata con la luce migliore perché qui credo che sia più o meno così indicativamente le 5 di pomeriggio qualcosa del genere poi naturalmente mi darai tu a che ora l'hai scattato però guardando la luce reputo che qui tu eri all'ombra perché ci sono le piante ma in una giornata di sole splendido e si vede da qui magari ovviamente non puoi essere sempre nei luoghi all'ora perfetta perché sarebbe difficile però in post produzione potevi un po' fare un fake andavi ad aggiungere una vignettatura qui che mi sa che c'è già perché vedo questa parte un po' più scura ma in questa zona potevi giocare meglio con le luci le ombre magari abbassare le ombre abbassare le luci dare un po' più di tonalità arancione a questa parte qui per dare il senso del tramonto magari fare qualche spot di luce qui sempre con i filtri radiali su Lightroom dove andavi ad aumentare un po' la saturazione il colore arancione un po' la luce magari in quegli spot qui un po' più scuri andavi a abbassarli per aumentare il contrasto insomma potevi giocare un po' con i filtri di Lightroom per ottenere il massimo da questa foto e un'altra cosa sempre data dalla post produzione quest'acqua qui è veramente troppo azzurra cioè si vede anche nella parte bianca che abbiamo troppo azzurro quindi o hai aumentato un po' troppo la saturazione o con lo slider del blu appunto l'hai caricato un po' troppo però l'acqua non è mai così blu così blu azzurra cioè è quasi del colore della penna che sto usando quindi anche qui in post produzione magari o vai a dessaturare leggermente il blu e l'azzurro o magari gli vai a dare un po' più di arancione per appunto andare a spegnere un po' di azzurro insomma questa parte dell'acqua qua è veramente troppo troppo blu è quasi fastidiosa per di più contrasta molto con le foglie rosse se il soggetto fosse stato davvero blu allora sì poteva essere un buon contrasto ma siccome mediamente l'acqua si tende di farla bianca o comunque molto desatura qui sarebbe stato meglio abbassare un po' la saturazione del blu e ottenere un'acqua un po' più realistica un po' più armonica con queste due piccole correzioni su Lightroom avreste ottenuto uno scatto veramente veramente fantastico specialmente se poi mi giocavi bene un filtro radiale qui andavi a aumentare un po' l'esposizione perché ripeto quella parte qua a fronte camera veramente veramente molto bella ricca di dettagli e di colori quindi due piccole cose in post produzione questo può diventare davvero uno scatto di altissimo livello bravo Giuseppe ho apprezzato tutti i tuoi scatti c'è uno che mi piace molto ma magari lo porto in un altro video perché me ne hai mandati parecchi ci tenevo a farti vedere questo appunto perché con poche correzioni puoi ottenere veramente uno scatto di un altissimo livello passiamo all'ultimo di Roberto Roberto mi aveva già mandato tante foto nel passato quello che apprezzo tantissimo è il primo piano tutta quella parte qui questa parte qua è veramente molto interessante hai tanti dettagli hai una buona cornice ti dà proprio il senso di correre in questa direzione date da tutte queste linee diagonali queste linee guida che hai sono veramente molto interessanti ogni punto in cui guardi hai una linea guida che ti spinge a guardare verso il centro dell'immagine vedi ne hai tantissime cioè è proprio fatto bene il primo piano è veramente veramente bello il problema effettivo di questo scatto è che non c'è un soggetto perché dove mi stanno puntando tutte queste linee guida qui non ho nulla ho un ponticello pochissimo interessante non si vede un trabocco si vede una rete ma non c'è un vero e proprio trabocco una struttura che poteva essere il nostro soggetto l'acqua non hai applicato nessuna tecnica compositiva nessuna tecnica fotografica magari allungando i tempi di scatto per ottenere appunto l'effetto seta e l'acqua un po' più morbida per far vedere che comunque era uno scatto ricercato il cielo poteva anche essere interessante perché comunque è molte forme date dalle nuvole dal brutto tempo perché naturalmente qui è una giornata di brutto tempo quindi poteva anche starci però mi manca totalmente un soggetto qui dove ci sono tutte queste linee guida mi fanno guardare un qualcosa che però un qualcosa non c'è il cosa mettere lì è un bel punto di domanda perché c'è poco da fare non è che puoi andare lì a mettere un soggetto tu però o qui una persona per esempio o una barchetta qui non lo so sto ipotizzando o magari non lo so un gabbiano un uccello che si fermava qui ora lo farò molto bene qualcosa del genere che si fermava qui allora sì che lo scatto prendeva un significato fatto così ti dico tutta questa parte qui è eccellente quindi bravo bravo perché mi piace molto proprio le linee guida i dettagli che ci sono tutte le texture del legno eccetera però su questa parte qui devi cercare di capire un po' meglio di mettere un soggetto perché qui non abbiamo nulla non abbiamo una lunga esposizione sull'acqua non abbiamo appunto un soggetto non ci sono magari esseri viventi come appunto un uccello un qualcosa che passava qui non lo so un qualsiasi cosa che mi giustificasse il fatto di avere tutte queste linee guida che mi spingono a guardare il centro stai lavorando bene concentrati di più sul fatto di utilizzare qualche tecnica avanzata come la lunga esposizione sull'acqua e concentrati di più sul fatto di trovare un soggetto qui se te ripeto se noi qua avevamo una barchetta avevi fatto bingo ripeto il primo piano e il fatto della cornice è veramente bellissimo ottima scelta ottima inquadratura ti manca una parte centrale e grazie a Samuel, Giuseppe e Roberto per aver condiviso i loro scatti con tutti noi bene ragazzi abbiamo terminato di revisionare questi tre scatti e abbiamo visto cosa è stato fatto bene e quindi potete prendere spunto da quello che è stato fatto bene e abbiamo corretto quello che invece andava corretto così se anche voi vi ritrovate in quella situazione potete applicare le stesse correzioni alle vostre fotografie ti ricordo che se anche tu vuoi una revisione dei tuoi scatti non essere timido scrivimi qua nei commenti contattami su Instagram a nicolas.toninelli o mandami un'email e la mia email personale la trovi qua nell'informazione del canale se hai apprezzato questo contenuto lasciami un like e se sei appassionato anche tu di fotografia iscriviti a questo canale per rimanere sempre aggiornato in questo fantastico mondo e per oggi è tutto noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao